E oggi invece a Chiara Valle parliamo di un tema che rientrerà nelle giornate in autunno che per quanto mi riguarda riguarda i bambini e il titolo è Non diamoli per persi che è un titolo che affronta il disagio infantile a scuola cosa di cui mi occupo da molti anni e in questo teatro splendido parlerò della teoria che abbiamo costruito intorno al disagio infantile contemporaneo insieme agli insegnanti e alle persone che vorranno partecipare a un momento anche interattivo di discussione su come intervenire tra istituzioni per la tutela della salute dei ragazzi contemporanei nei momenti di crisi. Grazie a tutti!